166 166 166 le ultime notizie quando vuoi Cuba alla casa del sol tutto è pronto per l'imminente inaugurazione manca solo l'attrazione principale stia tranquillo lo troverò un delfino no Mike ti riporterò fin bene una promessa difficile da mantenere se il delfino si comporterà bene il vostro amico uscirà di prigione non ti preoccupare ti porteremo via da qui giovedì alle 20 e 30 su Italia 1 una incredibile avventura in compagnia di Flipper